Bentornati amici di Army Magazine, la protagonista della prova di questa settimana è questa bella carabina di Sauer, la 100 Classic in calibro .308 Winchester. Prima di proseguire con la prova vi invito come d'abitudine a iscrivervi ai nostri canali social su Facebook, Instagram e YouTube per non perdere nessuna delle prove che faremo in futuro con cadenza settimanale. Prima di misurare il peso di sgancio dello scatto verifichiamo che l'arma sia scarica, quindi abbiamo controllo tattile e visivo, non c'è cartuccia in camera, possiamo procedere. Lo scatto della Sauer 100 Classic è regolabile in un range compreso fra 1 kg e 2 kg. Verifichiamo quant'è il peso su questo esemplare misurandolo. Con una media di 5 misurazioni abbiamo rilevato un peso di sgancio di 1098 grammi, quindi molto vicino al limite inferiore del range previsto dalla casa tedesca. La Sauer 100 Classic nasce per affrontare l'attività venatoria con un certo stile perché unisce una certa eleganza a una praticità che sono molto utili quando si va a caccia. L'aspetto che più colpisce di questa carabina è sicuramente la calciatura. È realizzata in legno, in particolare in legno di faggio. Ha una conformazione abbastanza classica con un'impugnatura a pistola abbastanza pronunciata e un calcio dritto privo di Monte Carlo. La canna è realizzata per rotomartellatura ed è lunga 560 mm con una volata di 17 mm. La volata termina con una filettatura come quasi tutte le armi di provenienza tedesca destinata al montaggio di un freno di bocca oppure nei paesi in cui è consentito un soppressore sonoro. La sicura manuale è a tre posizioni. Nella prima posizione è trassegnata da questo puntino rosso, consente chiaramente lo sparo. Nella posizione intermedia blocca lo scatto ma consente all'otturatore di arretrare per poter restare in sicurezza la cartuccia camerata, mentre nella posizione è tutta indietro, la sicura blocca sia lo scatto che l'otturatore, quindi impedisce di azionarlo. A proposito dell'otturatore, lo si può estrarre azionando una leva bilanciere posta sul lato sinistro. È provvisto di tre tenoni, quindi consente una rotazione molto contenuta del manubrio dell'otturatore di 60 gradi, quindi essendo i tenoni posti a 120 gradi uno dall'altro e quindi un maggiore comfort nell'utilizzo soprattutto considerando il cannocchiale, la presenza del cannocchiale. Sulla testina dell'otturatore sono presenti due espulsori a piolo azionati a molla che consentono anche di estrarre le cartucce piene che sono più pesanti dei bossoli e quindi richiedono una maggiore spinta. L'estrattore è a ghigliottina. Abbiamo poi il manubrio che è polimerico ed è presente a degli intarsi per offrire un maggiore grip alla mano dell'utilizzatore. Altro elemento di sicurezza nella codetta dell'otturatore è presente il percussore quando è armato sporge ed è colorato di rosso, quindi è una funge da visatore sia tattile che visivo. Da ultimo abbiamo il caricatore che è di tipo amovibile, polimerico e contiene cinque cartucce in calibro 308 Winchester. Viene rilasciato azionando questo pulsante che evita anche azionamenti non voluti. Per la prova abbiamo montato un cannocchiale Minox, quindi sempre un prodotto tedesco, un 3 15 x 56 che alla distanza a cui metteremo alla prova questa carabina, quindi 100 metri, è una soluzione ideale. Sulla sommità della carcassa sono presenti dei fori per il montaggio di basi e anelli e nel nostro caso abbiamo montato due anelli a sgancio rapido denominati Universal Mount, sempre prodotti da Sauer. Adesso andiamo all'Okloma Camp a vedere come spara questa Sauer 100 Classic. Grazie a tutti, grazie a tutti. Siamo tornati dall'Oklahoma Camp dove abbiamo ottenuto queste due rosate direi più che soddisfacenti. La carabina, la canna della carabina ha un passo di rigatura di 1 a 11 pollici e ha dimostrato di gradire particolarmente le palle più leggere, quelle da 150 grani. In questo caso abbiamo ottenuto questa rosata praticamente tre colpi in un unico foro con le fiocchi SP da 150 grani, a parte questi due colpi sparati per prendere confidenza con lo scatto perché erano i primi cinque che abbiamo sparato, mentre questi li abbiamo ottenuti con delle norma sempre da 150 grani. Passiamo ora alla pagella di Army Magazine partendo dalla prima voce che è l'ergonomia. L'ergonomia merita 5 punti su 5 perché abbiamo veramente apprezzato la conformazione dell'impugnatura. Questa pistola pronunciata e questa zigrinatura è non troppo efficace in termini di grip. Abbiamo sparato con i guanti indossati perché la temperatura era prossima allo zero e non abbiamo trovato nessuna difficoltà nella gestione del grilletto e nell'impugnatura. Il calcione in gomma infine assorbe decisamente bene il rinculo prodotto dal 308. Noi abbiamo sparato una trentina di colpi e non abbiamo avuto nessun fastidio alla spalla. Passiamo ora alla voce precisione dove diamo anche qui 5 punti su 5 perché le rosate parano chiaro e con le palle da 150 grani abbiamo ottenuto risultati davvero soddisfacenti. Infine l'ultima voce è rapporto qualità prezzo. Anche qui siamo costretti a dare 5 punti su 5 perché questa carabina è proposta in armeria a un prezzo di circa 1200-1300 euro che è decisamente vantaggioso considerata la qualità costruttiva teutonica e i materiali impiegati. Il voto complessivo dunque è facile, è 5 punti su 5 quindi punteggio pieno per una carabina che ci ha decisamente conquistati alla linea di tiro su una distanza di 100 metri è veramente di una precisione di riferimento direi. Concludiamo con le nostre consigliate raccomandazioni. Non esistono armi scariche. Proteggere sempre occhi e orecchie quando siete alla linea di tiro e dito lontano dal grilletto finché non avete intenzione di sparare. Arrivederci alla prossima prova.